la mia ex mi ha detto che non mi ama più ci sono ancora possibilità di riconquistarlo ci sono ancora possibilità per tornare insieme lei allora intanto partiamo da un presupposto molto molto semplice nel momento in cui lei ti dice io non ti amo più in quel momento lei ci crede per davvero d'accordo quindi non sarò qua a dirti una stronzata di no ti sto mentendo anche tu ce la puoi fare non è così è fondamentale mettersi in testa che nel momento in cui lei ti sta dicendo una roba quella roba è vera per quel momento e per come si sta sentendo in quel momento ok ma questo lascia un grosso presupposto aperto ma se nel momento successivo lei si sente diversamente prova robe diverse il suo dialogo interno è diverso eccetera 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 quel non ti amo più già acquisisce una sfaccettatura diversa questo per farti rendere conto in realtà di una legge che non è una legge non è matematica non è concreta è un qualcosa che sta molto all'intuito cioè purtroppo o per fortuna le decisioni che prendono le donne sono anche basate su dei fattori che sono ormonali sono basate su dei fattori che oggettivamente sono un flusso di emozioni e non per forza di cose un'addizione o una sottrazione o una moltiplicazione quindi tu puoi prendere allora capire come se fosse un'equazione non funziona così d'accordo quindi è fondamentale che tu ti mette in testa sta roba qua se lei ti ha detto una volta o più volte a secondo della situazione io non ti amo più lì per lì per quando te l'ha detto e per come è la situazione lei è convinta di quella cosa e ha ragione non ti sta più amando mettite la via cioè punto questo però non significa che se i dati alla fonte che cambiano allora anche quello che c'è sotto può cambiare rendo l'idea quindi se io riesco a far provare delle emozioni diverse mettermi nella condizione nella quale lei comincia ad avere un dialogo mentale diverso sente o si giustifica in maniera diversa io in quel caso posso anche ribaltare il non ti amo più con un'altra sfaccettatura che magari è il ti amo di meno ma comincia già a essere un risultato verso la nostra direzione quindi se ne vuoi sapere di più vai sul sito che trovi qua in descrizione su www.lamoancora.it avrai la possibilità di parlare direttamente con me ok quindi mi potrai sottoporre il tuo caso direttamente mi raccomando grazie a tutti